Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo a fare Skyworks Un server che forse alcuni di voi non avranno mai visto Perché non ci entro veramente da mesi Ovvero siamo su Arkham Network Se mi ricordo l'IP lo metterò in descrizione ovviamente E non ci sono più entrato perché effettivamente Avevo trovato l'email e poi un pochettino laggava E sono anche da solo oggi Perché effettivamente ragazzi è sentita una giornata Abbastanza faticosa non mi sono fermato nemmeno un attimo Ho detto ma vabbò sti cazzi li sto da solo Comunque speriamo di fare delle belle partite Qua c'erano i kit ragazzi I kit che erano abbastanza lezzinio Non c'ho soldi infiniti Alcuni kit se non sbaglio sono gratis Altri sono a pagamento Quello che ho preso io mi sembra sia gratis ma ho sbagliato Perché meglio era l'arciere Forse non mi ricordo bene Comunque come potete vedere Tipo la gente è ancora ferma La sopra Ragazzi lagga tipo tantissimo Ok no no ma è partito Alla fine è partito L'importante è questo Il drop delle casse è abbastanza buono Un server mi dispiace ragazzi ma è premium Però effettivamente Vi spiego di nuovo Cioè praticamente Negli altri server che ho provato a registrare Cioè su uno non c'era nessuno Sull'altro tipo non c'è lo shop A voi so che piace tantissimo lo shop E quindi ho detto vabbè ragazzi Proviamo a fare appunto una prova qui Sperando che non laghi in maniera eccessiva diciamo Quindi allora abbiamo uno speed 2 Che quasi quasi mi vivo subito Un rigenerazione che ci potrebbe servire E tantissime enderpearl Ora c'è anche un monster spawner Che non ci serve a nulla Quello là è ritardato Che mi sta tirando tipo così Ok Molto furbo devo dire E non sai che io ho l'enderpearl L'ho tirata Oh mio dio c'ha l'arco c'ha l'arco c'ha l'arco c'ha l'arco Ce l'ho fatta E' caduto di sotto Perfetto Non nell'isodetta sotto Ma proprio di sotto Allora siamo rimasti Di già in Pochissimi Allora qua quando si fa una kill Si pieno 10 punti Quando si muore si perde un punto Quello si è fatto la casa Se ne ho sbagliato Ok ce n'è uno al centro Che si è tipato da me Boh Mi sembrava avessero agito qualcosa Ma no è ancora là E poi ne manca un altro Che tipo sarà in qualche isola Leggissima da qualche parte Allora Quello là c'ha l'enderpearl E potrebbe essere un problema Quello laggiù Non penso abbia nulla E si è fatto la casetta Io ce ne ho altre 3 Con altre 3 Ah ok uno sta laggiù invece Vediamo quello lì Che c'ha l'enderpearl Cosa vuole fare Intanto Speriamo in bene ragazzi No Troppo alta Troppo alta Non andrà da nessuna parte E questa era precisa Ok Muorici Oh 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 Bug 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 Madonna questi Ah questi bug ragazzi Questi bug Cosa fai Ti bruci da solo Non lo so io Oh zio Vabbè ok un po' di lag Ragazzi Molto pesante Oh mio dio Questo lag Prima o poi andrà A finire Che andrà Tipo a mio svantaggio In maniera Pesantissima Comunque allora C'aveva Un arco Ok eccolo qui E delle frecce Che vorrei prendere 60 addirittura La madonna Quello era schilatissimo Allora Vediamolo Uno dovrebbe essere Là giù Di un muretto E l'altro era L'altro era sotto Se non sbaglio Ma vabbè Raga io prima mi tipo Però questo qua giù Che Madonna se l'ho sbagliata L'ho sbagliata Perfetto Ma proprio palesemente A parte Quello potrebbe dire Sì ma potete prima Tirare delle troiaiate Boh vabbè ragazzi Sti cazzi Allora devo cercare Un modo di scendere Senza morirci Brutalmente Questo è un buon modo In effetti Pozione Melina Anzi melinda Quello probabilmente Mi ha visto Che sono qua Blocchi 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 Ne ho 64 Perfetto Oddio qua c'è un buco È vero Dovemmo se c'è qualcosa Ah mele Buono Buono Potrebbero servire Allora Uno sta sopra di me Io non so se lui sa Della mia esistenza Cioè probabilmente lo sa Ma io ci spero Fino all'ultimo secondo Che non mi caghi Ok Ok Sbam Però non c'è morto Non c'è morto Perché ovviamente È caduto lì Quindi allora Frecciate che partono In ritardo Non va bene ragazzi Non va bene questa cosa qui Quindi allora Buttiamoci di sotto Brutalmente Cavolo c'è il danno Da caduta Non ci avevo pensato Sperando che Lui non abbia Le mele dorate Forse riusciamo a fare qualcosa Ora A parte lui Che non so Oltre tutto dove sia Ah eccolo qua Giù a sinistra Ne manca ancora un altro Che tipo Non so veramente dove sia E aspettate Tattica 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 Cosa fa Dai dai Cadici Cadici tantissimo Muorici Perfetto ragazzi Ci è morto brutalmente E ne manca ancora uno Uncora uno Che oddio Mi è sparita anche La cosa La scoreboard di lato Io ragazzi Non so Dove sia Questo qua Ho vinto ragazzi Ho vinto Non so come Server lagga Ma se metano vince Va bene Allora Altra partitozza Vediamo Ah ok C'è scritto prezzo free In effetti Ovvero gratis ragazzi Quindi effettivamente Questi kit qui sono gratis Era quello di prima Non lo so Ma comunque Boh In teoria Si Ora Effettivamente ho sbagliato ragazzi A prendere il kit Questo qua Per lo meno Per il semplice fatto Che su questa mappa qui Ci starebbe bene il pvp Comunque Ho visto che effettivamente Che lagga un bel po' Ma Lagga appena inizia la partita Perché dopo più o meno Si stabilizza con un ping Cioè un ping Un ritardo diciamo Quasi accettabile Non potete vedere ora le cose Dalle ceste me le prende Cioè proprio appena inizia Che tipo boh Smatta male Tira un Un mezzo infarto Non lo so Boh ragazzi Comunque Ho preso più o meno le cose Che mi interessavano un po' di più Ora metto a modo un attimo L'inventario Ok questo sta qui Questo sta qui Boh Sì più o meno ci siamo Ci siamo Vediamo qua Altre frecce Cappellino Se non sbaglio ce l'ho Uuuuh Ragazzi ci sono le mele op È vero Me l'ero scordato Allora In caso dovresti trovare una craft in table No una craft in table Scusate una cosa D'incantamento Che effettivamente ho già Mi metto questo qua Questo così Noi più o meno siamo immortali Il problema qual è ragazzi Che effettivamente Se arriva uno Si tippa brutalmente Sharpness Dai cavolo Ma cos'è Questa è sfiga Fammi sharpness uno Non lo so Qualcosa Qualcosa di lezzino Sharpness Sharpness La madonna 8,25 Incredibile Potevo fare sì qualche livello in più Potrei incantarmi l'armatura Ragazzi lo so benissimo Non ditemelo Perché non ho intenzione di farlo Cioè Tipo Non voglio spendere la mia vita Su questa partita Capiamoci Allora In effetti se non piazzo i bocchi A modo Non concludo nulla Al centro c'è già uno Eccolo lì Uno è laggiù nell'isola Qua praticamente è pieno di roba Ragazzi Siccome non ho l'enderpearl In questa partita Mi potrebbero buttare giù In modo abbastanza easy Oh cavolo Oh cavolo Vola I shit I shit A pezzo di merda Ma È morto È morto ragazzi Cioè Boh 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 Se la mente Non lo so ragazzi Non lo so Comunque Continuiamo la nostra partita Io per non essere buttato di sotto Preferirei prima di tutto Farmi un Qualcosa di un po' strano qui E siamo in tre ragazzi Siamo in tre Quindi se uno è ancora al centro E non è ancora al centro Ho visto laggiù dei movimenti strani Ma Forse me li sono immaginati E potrebbe anche essere Se è chiaro Ok Un saun al centro Ragazzi Noi Se ce lo richiamo a modo Siamo immortali Perché appunto abbiamo la mela OP E quindi con la mela OP Non si può morire Il punto è che siamo rimasti uno contro uno Ragazzi Fanculo Gli scontri equilibrati Mela OP di prepotenza Vieni qui strunzo Vieni qui Vieni qui Se hai messo meglio d'armatura Non me ne frega un cazzo Laggi come le merde Non mi interessa Almeno che ora tu non ti stai mangiando una mela Invece di combattere contro di me Ragazzi non era l'ultimo Non era l'ultimo Perché Ah forse ho vinto Ah si ragazzi Cioè dice che ho vinto Però tipo dopo mezz'ora Mi butta fuori Facendomi vedere che ho vinto Si Ok Ma non stai laggando No Il bello è che questi servono qui Me li consigliate voi Cioè io già ci giocavo tempo fa Ma mi avete consigliato di ritornarci Cioè Madonna proprio le zini Allora stavolta faccio una buona scelta In effetti prendendo questo kit qui Perché ho visto che Siamo su questa mappa Che io Questa mappa qui L'ho sempre chiamata la mappa del capezzolone Perché Beh vabbè Non Non c'è molto da dire ragazzi Potete benissimo vedere Qual è il centro E speriamo ci vada bene Intanto c'è sempre qualche strunzo Che esce dentro E ci fa tipo restartare il cooldown Come potete benissimo vedere qui Ma vabbè A noi questi server piacciono Anche per questo Alla fine Dai Ora nessuno che esce Dai come Ok magia ragazzi Nessuno è uscito Anche se tipo partirà dopo mezz'ora Come al solito Guardate È già partita Sì sì Tra molte virgolette Comunque Tipo Tempo qualche minuto Ok Ora è partita veramente Penso Ovviamente Ovviamente mezzo È già della nostra Quindi Mi si era duplicata Non lo so Mi sembrava Fosse successa una cosa Abbastanza strana Me l'op Ottimo La zuppetta qua Non mi ricordo Se serviva qualcosa Oppure no Questa spada fa 4 Quindi fa veramente schifo Prendiamo dei blocchi Che sono sempre utili Frecce Scarpettine ci servono Prendiamo anche un po' di cibo Altri blocchi Oh 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 Cavolo 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 No Ha stronzo Ha stronzo No ti prego stronzo 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 Sono morto Ragazzi sono morto Allora ragazzi Sto avvenendo Che queste qui Sono mappe abbastanza piccine Ma io ci vado di spada Perché Boh Secondo me In questa mappa qui È un po' meglio Già che il centro Più o meno visto Che è grosso E anche se le isole Sono piccine Effettivamente Ci hanno il bordo È quasi impossibile Buttare giù una persona Con Se c'è il bordo E quindi ho detto Oh sì Intanto si Lagga come al solito Ragazzi Perché Questo server È bello È molto bello Così Vabbè ragazzi No è abbastanza lezzino Non ve lo consiglio Perché Prima cosa Non mi ci troverete mai Perché se devo giocare Con il lag A questo punto Vado sui glazescraft Giusto per essere Un po' chiari E Boh Non ve lo consiglio assolutamente Ma devo dire che Certa gente A certa gente lagga A certa gente no Quindi Voi Volendo potete provarlo Fatemi sapere se vi lagga Perché tipo Per me È ingiocabile Detto questo Quello lì È già full diamond Con Una Under pearl Vediamo se c'è lo shop Questo comando È disabilitato Durante il gioco Boh O si shoppa prima Oppure proprio Non si può Quello lì Cos'ha in mano Ha una bistecca Pensavo fosse una melopi Per un momento Tipo mi sono spaventato Così Ma al centro Abbiamo perso Questo è quasi sicuro Almeno che il lag Non ci voglia salvare brutalmente Perché tipo Quello lì E veramente C'ha la spada in diamante E anche un pezzo dell'armatura E quindi tipo Oh Sono anche in team E no No vabbè raga ma I team brutali no I team brutali no Vabbè ci provo Ci provo ragazzi Ci provo E Non assicuro nulla Perché sono scherzissimo Oh cavolo Guardate sono tutti contro di me Ok no Mi hanno spaccato il culo Mi hanno spaccato il culo Di già E almeno che non faccio tipo così Mi cospargo di fuoco Do fuoco alla mappa Perché è l'emblema Cioè ragazzi Non per dire Però è così Allora C'ho fame La zuppetta scopro che è una zuppetta normale La cosa mi fa abbastanza dispiacere C'è sempre il lezzino qui Non dire al tuo amico Non dire al tuo amico Non dire al tuo amico Che ci sto uccidendo Ok l'ho ucciso ragazzi L'ho ucciso No 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 Cavolo 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 No 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 Devo scappare Devo scappare cavolo Non posso tirare l'endere per Su questo server qui ragazzi A caso Perché Praticamente se le tiro Mi fanno danno Dai cavolo dai cavolo Bam Muorici tantissimo Muorici tantissimo Ti prego ti prego ti prego Ti prego ti prego Crepaci Ha mangiato la melopi ragazzi L'ha mangiata L'ha mangiata incredibile E palese come non so cosa Allora non c'ho vita Oddio da dove mi ha beccato Ragazzi sono Ci sono altri due al centro Io c'ho fame C'ho molta fame Oh sono riuscito a recuperare qualcosa Come Ragazzi ma sono morto Non so quando Ma probabilmente mi ha Ucciso brutalmente E tipo siccome la gava In verità non ero morto Ma dettagli proprio Quindi ragazzi In conclusione Ai tempi quando ci giocavo La gava si Ma non così tanto Ora sta veramente laggando tanto Non so se è un problema mio O proprio di server Fatemelo sapere voi appunto Scrivendo nei commenti Se volete Se vi interessa Se no sti cazzi Non intrasci nemmeno Comunque ragazzi Spero che questo video laggante Vi sia piaciuto Ed ciao a tutti